Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, sulla A1 tra Incisa Reggello e Arezzo verso Roma. Si sono formati 10 chilometri di coda in aumento per un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 336. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze in pruneta per poi rientrare in autostrada a Valdichiana. Rallentamenti sulla carreggiata opposta per curiosi, sulla FIPILI personale su strada per lavori tra l'allacciamento per la FIPILI e centro intermodale est in direzione Firenze. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!